Sono scesi direttamente in campo i rappresentanti di Fratelli d'Italia per evidenziare ancora più da vicino il degrado del parco pubblico dei passeggi, un'area verde inserita in pieno contesto urbano a pochi passi dal centro storico che necessita di manutenzione. Già nei giorni scorsi la segretaria della Forza Politica di centrodestra, Loretta Manocchi, aveva posto all'attenzione della Giunta le criticità riscontrate nei passeggi, criticità che corrono il rischio di fluire anche sulla sicurezza del luogo che durante la notte risulta abbandonato a se stesso. Questa mattina Fratelli d'Italia, con le loro bandiere, hanno organizzato un flash mob proprio per dare maggiore risalto alle loro osservazioni. Avete rilevato diversi problemi? Quali sono? Abbiamo rilevato quello che è sotto gli occhi di tutti, ovvero in prim'ordine quando avvengono delle importanti piogge, quindi delle abbondanti piogge, fango ovunque, buche impressionanti, i giochi dei bambini che sotto hanno proprio questo laghetto che impediscono l'utilizzo dei giochi stessi, ma questo nel corso poi di svariati giorni. Erbacce, abbiamo visto qualche giorno fa proprio dell'olio esausto buttato ai margini di questo polmone verde della città, i cancelli sempre aperti che quindi consentono anche di fare dei bagorti, le persone di venire, consumano alcol. In qualsiasi ora del giorno della notte da parte di persone più o meno raccomandabili, chiaramente a fronte invece di una passeggiata di una mamma con un bambino, la dice lunga. E quindi c'è proprio una disattenzione totale nei confronti di quello che invece dovrebbe essere davvero un posto, un luogo sicuro, bello e fruibile sotto un profilo proprio dei giochi, di tutti i servizi per le famiglie e per i bambini. L'assessore Brunori, anche proprio in questi giorni alla radio, proclamava questi progetti, questi rendering che sono belli, ma la città ha bisogno di risposte, ha bisogno di risposte oggi e riteniamo che non certo con un delghiaino risolviamo il problema. Una manutenzione ordinaria che noi vediamo che viene meno in varie parti della città e per una città come Fano riteniamo che sia intollerabile e inaccettabile e intollerabile e inaccettabile anche faremo, vedremo, ci adopereremo.